Si chiama Alexander Bresnev, è un uomo di 38 anni di età, il quale una volta uscito di prigione dal carcere pensate che avrebbe stuprato ben due donne, una delle due avrebbe contratto l'HIV, il virus dell'immunodificenza acquisita e l'altra invece è stata fatta fuori. L'uomo infatti ha agito di nuovo, sempre col stesso modus operandi, andando a violentare ben due donne, delle quali una delle due ha riportato l'HIV, è stata contagiata dal terribile virus, il virus dell'immunodificenza umana, l'altra invece è stata letteralmente uscita, è stata fatta fuori. La vicenda è una vicenda che sciocca e che alimenta il malumore, il teatro di questa vicenda, la Russia occidentale, pensate che una ragazzina che si chiamava, ripeto, Giulia Klimenkova, è stata portata in un bosco, prima è stata stuprata e poi è stata fatta fuori. E' una vicenda questa che turba tutta la Russia, la Russia è questo bellissimo paese ubicato nella parte più settentrionale del nostro pianeta, la Terra, e che ha delle incredibili, come si fa a fare una cosa del genere, a ammazzare una donna e a contagiare un'altra per l'HIV, con l'HIV, è assolutamente allucinante. Vi ringrazio per l'ascolto e per l'avviso di questo video di oggi, vi ringrazio di YouTube, un saluto caro D'Aleandro, un narrato italiano, iscrivetevi al canale e al prossimo video.